il trasformer è tornato buonasera a tutti ragazzi bentornati sul canale alins gamers qui alex e noi siamo col goto grandmaster paladins con il nostro buon caro fernando versione trasformer dall'altra parte abbiamo una cassi gruver ma ho una sky gold and a will vediamo un po come va come sempre si vede allo star ok rieccoci ad ora fernando l'avevo già giocato nel goto grandmaster ma non l'avevo fatto vedere lo ad out e la leggenda letto di solito con fernando allora io con fernando uso lo scorch che è questa qui quelle altre le ho provate non mi hanno proprio convinto infatti se vedete solamente l'ho dato del scorch e che è questo qui ovviamente a fine partita vi faccio vedere tutti l'ho dato cioè tutte le carte a modo cosa sono per fare un bel recato ok noi andiamo l'abbiamo a questo forno debilitator andiamo con una bella rejuvenate bisogna stare attenti a willow che fa quella storia specie di cerchio per terra che non riceve pure è abbastanza sbrava cazzo via dal cerchio merda non puoi vincere con cazzo non puoi vincere con cazzo non c'ho aiuto neanche da parte delle parti puria viene mangiata da sky a parte loro hanno avuto un un ban veramente illegale alla dietro c'è quella sky ma 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 Grazie, non so sbagliare tutta l'asta Quello da merda Non ci siamo proprio, non ci siamo proprio Questa la perdiamo male Sì 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 Succa Porta viene Un guillo sì E che ho ripreso Ammo ti venga a fia qua Devo proteggere Devo proteggere fuori Non posso lasciare fuori da sotto E contaci No, non è fisicamente possibile Devo prendere questa, dai Non puoi, non puoi, non puoi assolutamente Koga fa il cazzone Koga fa veramente il cazzone Sta usando di me Che non c'è l'ho il cazzo bisogna proteggere furia è fattibile perché potrebbe essere anche fattibile non bisogna proteggere furia questo intanto Koga si incazza Koga stai facendo po' nulla stai facendo la ventola perché stai andando a fuoco il computer purtroppo un computer che bacca il bomba furia il cazzo vai furia il cazzo vai non ci sono è infattibile, non c'ho neanche aiuto da parte del parco, ma zero proprio vivian rocker, pk istante ma quel cazzo fuca come huh ok non c'è un'altra non c'è un'altra ma che c'è un'altra uh in volo bella così in volo bella così in volo non protegge furia proteggi furia eeeh Sky tutte che ne ha più ne me sono furia in modo mostruoso ma proprio mostruoso e contaci contaci che mi ammazzi si mi ha ammazzato Groover mi ha ammazzato che stima se avevo canne questi erano morti mi ha ammazzato Stai non 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 5,4,3,2,1! se non sono in team 2 da dire pessima idea cara Vivian non c'è guarda questi maiali dai Koga dai Koga dai Koga si perde? perché si perde il payload? il centro qua si perde ci credo over time cioè nessuno ci va ma non c'è aiuto proprio non posso fare tutto da solo eh era capita era veramente capita tra Will e Sky non so che sta facendo più kill ma non c'è non c'è ma non c'è il tiro corto no no c'è quella cazzo qualcosa di assurdo Koga che cazzo fa? ho preso dei trick proprio alla terza di time no 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 Grazie a tutti. 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 No, non c'è... Poco Sky, ho già tagliato da Sky. Ho vinto Sky da sola. Ho vinto Sky da sola. Vediamo se ce la faccio arrivare, ma è difficile. Non ce la farò. Eh, vabbè, pace. Ho giocato da sola un Koga che non mi è piaciuto. Una Vivian che sinceramente non mi ha dato, cioè la forza non me l'ha fatta con l'ultima che qui l'ha fatta, cioè la top play l'ha fatta con l'ultima. Non si può vinto. Non si può vincere sempre. Non si può vincere sempre. Non si può vincere sempre ragazzi. Non si può vincere sempre. 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 No, ragazzi. Allora. Per... Impeto, per Fernando... Scorch. Questo è loadout. va bene ragazzi l'appuntamento di oggi finisce qua ci si vede col prossimo episodio del Voto Grandmaster alla prossima